buonasera buonasera a tutti e tutte potete accendere telecamere microfono tutto quanto fatevi vedere fatevi sentire benvenuti benvenute ciao buonasera rosa ciao pausto ciao state bene o state male state così così come state raffreddata mali di stagione speriamo allora eccoci al penultimo campus talk del 2023 ancora uno e poi il 2023 per quanto riguarda il campus talk se ne va e noi ci siamo accompagnati quest'anno con il campus talk è sempre una piacevole serata è sempre molto interessante sentire le tematiche che ci vengono portate dagli relatori ogni ogni volta e questa sera abbiamo una relatrice ci parlerà di un tema molto interessante che è quello degli eroi dell'eroe che è in noi da scoprire e da portare in viaggio e prima parlavamo del del fatto che il percorso è un elemento importante della vita e per questo pezzettino di percorso che facciamo insieme molto interessante e lo condividiamo con tutti quanti per cui io vi presento Marika Mangafà che è una coach e che ci allieterà con questa serata per cui a te Marika la parola vai pure libera grazie grazie per me è bello essere qui è un onore come dicevo a Silvio come dicevo prima stavamo parlando appunto del no dello scopo di alcune cose no anche quello di portare alcuni temi al mondo alle persone perché c'è bisogno di portare un po' di bene no c'è bisogno di portare qualcosa di positivo c'è bisogno di provare a fare il meglio che possiamo fare per contagiare in senso positivo le persone e quindi portare anche dei temi che in qualche modo possano aiutare anche solo a fare un passettino non necessariamente a fare grossi cambiamenti ma si inizia poi sempre da un passettino io sono felice di essere qui quindi vi do anche io il benvenuto non so se potete chi può aprire la telecamera perché è sempre bello anche poter interagire e fare insomma un lavoro anche di gruppo provare insomma a scambiarci anche eh due chiacchiere fare due domande quindi insomma siete ovviamente liberi liberi di aprire i microfoni aprire le telecamere e di fare qualunque tipo di domanda interagire ehm bene inizio eh saluto anche Yvonne che ho avuto modo occasione di conoscere la ciao Marika ciao ciao Yvonne ciao Yvonne ciao a tutti ben arrivata Marika grazie grazie sono curiosissima grazie ciao Alessandra grazie di aver aperto la telecamera ehm allora di cosa parliamo stasera stasera parliamo del viaggio dell'eroe eh che cos'è il viaggio dell'eroe è ehm è qualcosa che ora andiamo a esplorare eh a livello teorico e a livello anche pratico cioè facciamo comunque un po' di pratica su questo viaggio dell'eroe ehm è qualcosa che però già vi dico che ehm sentendolo ascoltandolo in realtà vi sarà molto familiare perché è vero che c'è alla base del viaggio dell'eroe una base teorica ehm molto importante è un argomento vastissimo forse ci vorrebbe un mese per spiegare esattamente tutto il viaggio dell'eroe e tutte le cose che intervengono all'interno del viaggio dell'eroe però oggi andiamo a fare un po' una sintesi ma la cosa affascinante del viaggio dell'eroe è che quando ve lo racconterò e quando ci lavoreremo insieme eh vi sembrerà molto familiare perché fondamentalmente è il viaggio che facciamo tutti noi è il viaggio che facciamo nel quotidiano è il viaggio che facciamo per tutta la vita infatti ognuno di noi fa un unico grande viaggio dell'eroe che quello della vita e fa tanti piccoli viaggi dell'eroe per ogni ehm evento che accade per ogni cambiamento ehm ogni ne facciamo davvero tanti a volte li facciamo anche contemporaneamente più viaggi dell'eroe ehm perché ci sono familiari sia perché li viviamo noi e sia perché li potete trovare non a caso nella narrativa nei film nelle serie tv che guardate eh nei libri nei miti ehm infatti c'è uno studio proprio dal punto di vista ehm della proprio della sceneggiatura standard quella cinematografica che è proprio basata sul viaggio dell'eroe infatti quando noi guardiamo i film eh ci emozionano compartecipiamo al film compartecipiamo all'emozione dell'eroe del personaggio del protagonista perché fondamentalmente siamo noi perché fondamentalmente ci medesimiamo perché noi facciamo lo stesso percorso è vero che non abbiamo magari lo stesso superpotere dell'uomo ragno o di Superman ma fondamentalmente le tappe del viaggio sono le stesse e risuonano a livello interno a livello inconscio a livello archetipico dentro di noi e scusate volevo un attimo vedervi tutti cambio un attimo la vista eh ok chiedo a Silvio Silvio se io ho cambiato la vista per me mettendo vista galleria eh va bene giusto non ho cambiato per tutti ok perché a un certo punto ho visto il mio faccione gigante no no sono io sono io che gioco con va bene va bene volevo invece vedere io volevo vedere tutti però però non volevo cambiare il sistema eh no no tranquilla ok ok quindi ehm quindi fondamentalmente è qualcosa che appartiene al al nostro profondo alla parte più inconscia di noi la cosa affascinante dello studio sul viaggio dell'eroe è che eh arriva fondamentalmente da molto lontano ma poi è stato eh fondamentalmente ehm diciamo eh creato eh per appunto la parte della per la sceneggiatura cinematografica eh però che cosa accade che da molto lontano arriva il fatto che ehm questo appartiene addirittura ai miti quindi fondamentalmente che cosa accade accade che ehm è qualcosa che fa parte dell'inconscio collettivo cioè significa che nelle nostre radici a prescindere è dentro di di noi a prescindere eh esiste nell'inconscio collettivo nell'inconscio umano addirittura eh il viaggio dell'eroe va al di là della cultura e al di là dei tempi quindi è da sempre che l'uomo fa il proprio viaggio dell'eroe lo fanno in Cina come lo fanno in Italia come lo fa in negli Stati Uniti quindi è è qualcosa di profondo è qualcosa di archetipico qualcosa che appartiene proprio all'inconscio collettivo eh è affascinante anche ehm pensare che il viaggio dell'eroe lo fa anche il mondo stesso quindi è qualcosa di globale è qualcosa che gli eventi per esempio di una nazione gli eventi di una città gli eventi del mondo compiono a loro volta anche il viaggio dell'eroe quindi immaginate com'è radicato all'interno dell'essere umano ora cosa facciamo oggi oggi andiamo in esplorazione proprio di che cos'è il viaggio dell'eroe di quali sono queste tappe perché il viaggio dell'eroe altro non è che è un ciclo di tappe che parte da un punto è fatto da dodici tappe quindi è circolare o a spirale e torna allo stesso punto e noi viviamo così la nostra vita è così è circolare quindi tutti i nostri eventi si basano su questo andamento circolare fatto di dodici tappe le dodici tappe sono eventi che noi in qualche modo a cui noi partecipiamo nella nostra vita ok ditemi se ci sono domande fino qui se ci sono curiosità Maria Rosa ho visto una manina alzata no voglio sentire perché è curiosa questa cosa delle dodici tappe vediamo quali sono ora le guardiamo Maria Rosa ora le guardiamo ok ora vi faccio vedere un pezzettino di presentazione così vi faccio vedere anche come sono distribuite queste dodici tappe e vi ci ritroverete e iniziamo da subito se vi va a lavorare insieme su queste dodici tappe quindi vi chiederò vi farò vedere il viaggio dell'eroe che cos'è e vi chiederò appunto di iniziare vi darò delle istruzioni per provare a individuare il vostro attuale viaggio dell'eroe perché lo scopo è vedere dove siamo fermi ok ma soprattutto come il coaching insegna è qual è il prossimo passo che devo fare per andare nella tappa successiva ok allora condivido con voi la presentazione ditemi se vedete fatemi un cenno sì ok allora il viaggio dell'eroe come dicevo prima è un modello narrativo che è sviluppato da Vogler che appunto quel tizio quella persona che ha messo un po' in ordine queste tappe per creare questo filo conduttore narrativo che ritroviamo in tutti i film in tutti i miti lui l'ha utilizzato proprio nelle sceneggiature dei film americani ed è basato su degli studi più antichi diciamo andando più indietro di Campbell e addirittura risalgono a a Jung Jung introduce cos'è che dice Jung fondamentalmente dice che nella nostra vita intervengono degli archetipi e gli archetipi sono delle forme primordiali che noi abbiamo come esseri umani sono praticamente delle immagini dei simboli delle simbologie che tutti gli esseri umani hanno questo lui l'ha scoperto attraverso i sogni per esempio se voi pensate quando noi per esempio siamo agitati e facciamo dei sogni particolari magari c'è chi sogna l'acqua c'è chi sogna la tempesta no ci sono delle simbologie ricorrenti Jung ha scoperto questo che c'è un inconscio collettivo nell'inconscio collettivo esistono degli archetipi il viaggio dell'eroe è già di per sé un archetipo perché come dicevo prima proprio appartiene all'inconscio collettivo e a tutti gli esseri umani al di là della cultura dentro il viaggio dell'eroe in base alle tappe che l'eroe o che noi affrontiamo intervengono degli archetipi che poi andremo a vedere quindi cosa succede che noi man mano che affrontiamo questo viaggio e attraversiamo queste tappe diventiamo qualcos'altro a livello simbolico poi li guardiamo meglio è questa cosa questa questa cosa nello specifico a cosa serve il viaggio dell'eroe fondamentalmente è un viaggio di autoconsapevolezza è un viaggio di autoscoperta ed è un viaggio di autorealizzazione perché quando noi facciamo iniziamo e concludiamo il viaggio dell'eroe ogni viaggio dell'eroe torniamo a casa con una nuova consapevolezza siamo migliori siamo cresciuti siamo più forti abbiamo acquisito qualcosa in più siamo diversi rispetto a quando siamo partiti quindi che cos'è è tutta la nostra vita come dicevo prima noi viviamo tanti viaggi dell'eroe è il nostro la nostra vita intera è un unico grande viaggio dell'eroe ed è basato su diciamo eventi che accadono nella nostra vita quindi tutte le volte che noi affrontiamo degli eventi della nostra vita dei cambiamenti delle perdite un lutto piccoli e grandi eventi della nostra vita questi ci mettono in cammino verso verso il nostro personale viaggio dell'eroe col viaggio dell'eroe noi conquistiamo quindi iniziamo di sicuro con una parte eroica meno consapevole quindi spesso pieni di paura però poi man mano che affrontiamo questo viaggio siccome la vita accade e gli eventi accadono noi ci troviamo in baglia del viaggio e allora lo dobbiamo affrontare e questo dover affrontare la vita dover affrontare il viaggio ci permette di acquisire necessariamente delle nuove consapevolezze una crescita interiore e di scoprire anche una parte eroica interiore per l'eroe è per l'eroe per noi è inevitabile non possiamo vivere senza viaggio dell'eroe cioè se noi siamo vivi dobbiamo necessariamente camminare all'interno del nostro personale viaggio dell'eroe cosa accade nel viaggio dell'eroe che noi questa citazione è molto bella siamo le storie che ci raccontiamo che cosa vuol dire vuol dire che noi quando affrontiamo un viaggio dell'eroe anche se la vita accade fondamentalmente siamo i protagonisti e decidiamo decidiamo di qual è la storia che ci vogliamo raccontare tappa dopo tappa quindi non siamo in baglia degli eventi anche se a volte può sembrare così ma fondamentalmente per ogni evento che accade noi scegliamo sempre facciamo una scelta facciamo la scelta di rimanere fermi o facciamo la scelta di andare avanti o facciamo la scelta di sbagliare perché a volte sono scelte facciamo la scelta di sbagliare per crescere quindi quando noi facciamo un viaggio dell'eroe per ogni tappa fondamentalmente siamo proiettati verso la tappa successiva proprio raccontandoci una storia essere consapevoli del viaggio dell'eroe che stiamo affrontando come possiamo fare stasera quindi sapere qual è il viaggio dell'eroe sapere dove siamo sapere dove stiamo andando ci fa entrare in possesso del nostro potere narrativo quindi noi diventiamo protagonisti non solo perché lo stiamo affrontando ma perché sappiamo anche come raccontarcelo e allora immaginate che di fronte a un evento noi possiamo scegliere di riraccontarcelo questo evento cioè di sapere cosa chi vogliamo essere di sapere cosa vogliamo fare in questo evento e quindi è lì che noi entriamo in possesso del nostro potere narrativo quindi nel momento in cui passo alla tappa successiva se io so da dove arrivo posso anche sapere dove posso andare questo è lo schema del viaggio dell'eroe preso in prestito da internet potete vedere che come vi dicevo è circolare parte dalla tappa numero uno c'è la due la tre fino alla tappa dodici e allora da dove parte il viaggio dell'eroe il viaggio dell'eroe parte il nostro viaggio personale parte sempre da un mondo ordinario ora ve lo racconterò come se fosse davvero una storia cioè come se fosse davvero quasi un film una un mito però provate immergervi in questo e a capire voi dove siete in questo momento come si fa noi partiamo da un mondo ordinario il mondo ordinario è la prima tappa è il punto in cui io sto vivendo la mia vita in maniera tranquilla non ho non sto affrontando cambiamenti tutto scorre uguale tutto scorre scorre liscio a volte mediocremente liscio ok un momento di stallo un momento di stasi che può essere carino può essere mediocre può essere un momento in cui di sicuro io sono ferma e non accade nulla quindi magari vivo la mia vita serena tranquilla familiare di lavoro sempre uguale tutto uguale ok nessuna sfida davanti a me quindi vi chiedo come prima cosa di disegnare questo cerchio è di pensare al vostro ultimo mondo ordinario cioè l'ultima volta che vi siete trovati in questo mondo ordinario l'ultima volta che la vostra vita scorreva tranquilla senza scossoni senza pensieri magari potevate essere più o meno felici più o meno contenti più o meno sereni questo non importa ma un momento di stallo ditemi se ce l'avete chi sta facendo l'esercizio io non vi vedo tutti eh per cui poi se avete domande alzate la mano eh quella virtuale una volta che l'avete individuato dateli un titolo cioè proprio come se fosse eh eh se guardate le serie tv su Netflix come se fosse un diciamo il titolo della prima puntata il titolo è la prima cosa che vi viene in mente non pensateci troppo razionalmente con la logica non entrate nel giudizio quando scrivete il titolo può essere qualunque cosa una parola una frase una sensazione la prima cosa che vi viene in mente che vi arriva dalla pancia è la cosa più corretta è la cosa giusta ora eh cosa farò man mano vi racconterò queste dodici tappe quello che vi chiedo è di eh partendo dal vostro mondo ordinario ripercorrere insieme a me queste tappe man mano che ve le descrivo eh pensatele partendo dal mondo ordinario perché di sicuro le avete vissute ehm a un certo punto vi fermerete perché magari non avete compiuto il vostro viaggio dell'eroe e su queste dodici tappe lì dove vi fermerete perché vi renderete conto che siete lì in questo momento in una di queste tappe mettete un cerchietto o una X in queste tappe in una di queste tappe nel frattempo mentre io vi racconto come avete fatto sul mondo ordinario per ogni tappa dovrete dare un titolo e continuate anche lì dove anche oltre il punto in cui vi siete fermati anche se non l'avete ancora vissuto dateli lo stesso un titolo il titolo che volete il titolo che pensate che sia quello giusto il titolo che vi viene da dentro dalla pancia ok ok allora tornerò su questo schema ma vi voglio far vedere cosa sono quindi il primo è il mondo ordinario il secondo è la chiamata l'avventura la chiamata l'avventura cosa significa che ad un certo punto quando voi siete nel vostro mondo ordinario c'è qualcosa che vi chiama a fare qualcosa o qualcuno che vi chiama a fare qualcosa una chiamata sentite di dover fare qualcosa un progetto sentite di dover cambiare qualcosa nella vostra vita qualcuno che vi lancia un'idea normalmente avviene qualcosa di questo tipo questa è la chiamata all'avventura ed è la seconda tappa scrivete il titolo di questa chiamata all'avventura dopodiché la terza tappa è il rifiuto della chiamata c'è qualcosa che vi fa dire no ma io non posso cambiare no ma questo non è possibile oppure no lo so ci devo pensare solitamente è o un rifiuto totale o siete titubanti ad avanzare c'è qualcosa che vi blocca può essere una paura normalmente è la paura vi risuona in qualche modo ok vedo delle teste che fanno così date un titolo a questo rifiuto alla chiamata dopodiché nella quarta tappa abbiamo l'incontro con il mentore chi è il mentore o cos'è il mentore il mentore è quella persona quel segnale una parte di noi che ci suggerisce ad avanzare che ci dà il coraggio di farlo una parola un segnale una canzone ascoltata può essere qualunque cosa un film che avete visto qualcuno che vi ha detto qualcosa o addirittura anche un mentore vero e proprio quindi una figura esterna come può essere un insegnante può essere un può essere ivonne può essere silvio può essere fausto per esempio che vi ispirano che vi danno l'ispirazione di e il coraggio soprattutto di fare un passo avanti date un titolo anche a questa tappa ok ci siamo fino qui giusto ok vi faccio vedere quale fasi scritte perché magari vi può essere per chi si è perso qualcosa per chi non ha non ha scritto ok così potete magari avere il tempo anche di scrivervi titoli l'ultima tappa diciamo di questo pezzo di percorso è il superamento della prima soglia e siamo qui alla tappa 5 ok questa è la prima parte del viaggio dell'ero il primo atto il superamento della prima soglia è l'ingresso dal mondo ordinario dove eravamo prima quindi dove nulla succedeva dove provavamo paura dove eravamo immobili immobilizzati dalla paura con l'aiuto del mentore il mentore ci aiuta ad attraversare la prima soglia e diciamo entriamo nella prima tappa del mondo straordinario qui è il momento esatto in cui inizia l'avventura dell'eroe in cui inizia la vostra avventura è l'ingresso verso qualcosa di nuovo verso un nuovo lavoro verso una nuova vita è l'ingresso verso non necessariamente qualcosa di bello ma è comunque l'ingresso con coraggio e responsabilità entrati in una nuova vita immaginate anche per esempio molto diffuso la separazione ok non è necessariamente bello il momento dopo una separazione ma di sicuro è un superamento della prima soglia oppure un licenziamento non è bello necessariamente il superamento diciamo la fase successiva al decidersi magari di licenziarsi o all'essere stati licenziati però di sicuro è quella fase in cui si acquisisce il coraggio di fare la primavera azione per se stessi all'interno del viaggio qualunque cosa accada la si fa qualunque cosa accada ci siete fino qui ok date un titolo al superamento della prima soglia dopodiché tornando al nostro schema siamo abbiamo superato la prima soglia abbiamo trovato quel coraggio di affrontare il primo passo verso un cambiamento verso qualcosa di nuovo verso qualcosa che magari dobbiamo anche necessariamente affrontare per una questione sempre per il fatto che comunque la vita accade superando la prima soglia ci troviamo di fronte alle prime prove e le prime prove non sono sempre facili seppur non grandissime non sono sempre facili e allora che cosa accade e qua succede quasi sempre io quando spiego il viaggio dell'eroe vedo spesso persone che annuiscono che quando decidiamo di cambiare qualcosa e quindi prendiamo il coraggio di farlo e lo iniziamo a farlo arrivano nella nostra vita persone nuove che sono amici e perdiamo tante persone quindi incrociamo incontriamo sia alleati che nemici a volte i cambiamenti della vita ci portano a perdere delle cose e a perdere anche delle persone fa parte del viaggio per quanto triste per quanto brutto fa parte del viaggio tenete presente che già passare dal mondo ordinario al superamento della prima soglia è già tanta roba è già un inizio di presa di consapevolezza importante e quindi necessariamente nel momento in cui la nostra vita tende ad avere un cambiamento importante anche le cose intorno a noi cambiano e a volte perdiamo delle persone che fino a quel momento magari c'erano amici ditemi se vi ritrovate in questo sì mi fanno col dito sì Alessandra nuisce ok io ogni tanto scorro per vedervi dopodiché vado qui così lo seguite anche nella parte di scrittura c'è l'avvicinamento alla caverna guardatelo qui e ve lo ripropongo qui ok questa diciamo è una delle fasi più importanti del viaggio dell'eroe l'eroe sa che sta andando in un luogo oscuro in un luogo che non è casa ok un luogo nuovo oscuro che può essere pericoloso ma sa che dovrà affrontarlo che dovrà affrontare il pericolo che dovrà affrontare qualcosa che non conosce che dovrà affrontarlo prendendo tutte le proprie risorse per affrontarlo proprio perché è una caverna no quindi un luogo buio guardate anche gli archetipi no che ci sono dietro le simbologie che fanno parte di questo viaggio dell'eroe la caverna poi fondamentalmente che cos'è è un luogo scuro buio per noi è impossibile guardare fuori dalla caverna finché siamo nella caverna noi non riusciamo a vedere cosa c'è fuori sappiamo che dovremo affrontare qualcosa è quel momento lì sappiamo che dovremo affrontare qualcosa non sappiamo ancora che cos'è perché siamo nella caverna perché non vediamo al di là abbiamo paura sappiamo che è pericoloso però sappiamo che da lì a breve dovremo affrontare una guerra una prova centrale qualcosa di importante per la nostra parte eroica ora io lo racconto anche in termini quasi cinematografici ma guardatelo proprio nella vita nella vostra vita perché è la stessa identica cosa quando voi siete nella caverna non sapete esattamente cosa andrete ad affrontare ma ad un certo punto decidete c'è il momento in cui decidete di mettere il passo fuori e quando decidete di mettere il passo fuori come se fosse una seconda soglia allora a quel punto vi siete caricati di tutte le vostre risorse tutto il vostro coraggio perché a quel punto state andando in guerra state andando ad affrontare diciamo il nemico più grande ora che cos'è questo nemico più grande il nemico più grande normalmente è può essere qualcosa di esterno quindi tipo partendo dalle cose più piccole voglio chiedere un aumento perché può essere anche questo un viaggio dell'eroe per qualcuno può essere molto difficile farlo e quindi questo può essere il personale viaggio dell'eroe così come può essere anche per esempio affrontare una separazione affrontare un lutto affrontare un licenziamento ma nella prova centrale che la vediamo qua la prova centrale vedete anche a livello di disegnino c'è l'eroe con la spada che affronta un drago noi affrontiamo un drago a livello proprio di archetipo il drago il drago altro non è che è la nostra paura più profonda la nostra il nostro lato ombra quello che ci blocca sempre nella vita quello che ci fa raccontare nel mondo ordinario torno qua che ci fa raccontare io fondamentalmente sto bene così preferisco non cambiare lo ritroviamo qui nella prova centrale sotto forma di drago e la nostra parte ombra perché è vero che come dicevo prima la vita accade gli eventi accadono ma noi fondamentalmente gli eventi sono un mezzo per combattere noi stessi per combattere la parte più buia di noi per combattere la parte più ombra di noi quindi gli eventi sono solo un mezzo quindi noi nella prova centrale quello che andiamo a affrontare è la nostra paura più profonda il drago che è un archetipo del viaggio dell'eroe quindi provate ora a fare dopo che avete scritto i vari titoli o se vi siete fermati anche prima va bene lo stesso continuate a scriverli i titoli perché questo fa una parte del vostro viaggio provate a pensare alla corrispondenza che c'è tra il drago che dovrete affrontare o che avete affrontato nella prova centrale è lo stesso drago che vi ha tenuto fermi nel mondo ordinario vedete se c'è questa corrispondenza perché la maggior parte delle volte è la stessa cosa Silvio mi fa il pollicione in su Yvonne no per me è diversa ok c'è la cosa ok secondo te ti faccio questa domanda può esserci per quanto diversa può avere la stessa pasta la stessa natura no nel senso che la prima è una io ho messo come titolo la routine sì è qualcosa che mi stanca che mi da noia che sento che c'è qualcosa che mi manca sì invece alla prova centrale è proprio una paura una paura di non riuscire a fare qualcosa di non riuscire a raggiungere un obiettivo ok ok va bene va bene prova a riflettere su questa cosa no quando eri nel mondo ordinario cos'è che ti faceva stare nella routine ok 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 poi pensati pensati se ci sono altre domande fino qui aprite i microfoni che sono qui a disposizione o alzate la mano così andate in cima ok allora quindi siamo alla prova centrale e la guardiamo qua dopodiché superata la prova centrale la prova centrale ha a che fare anche con perché la paura è quello no ha a che fare anche con la morte no simbolica nel senso che cos'è la morte simbolica quando c'è la paura della prova centrale fondamentalmente ha a che fare con la paura del fallimento no ha a che fare con la paura che nel momento in cui falliamo nel momento in cui non ce la facciamo muore una parte di noi quindi la prova centrale ha a che fare con questo dopodiché cosa succede quando noi che è il punto più difficile riusciamo ad affrontare la nostra paura più profonda e quindi riusciamo a combatterla riusciamo a vincere sul drago e quindi facciamo quel grande passo in qualunque modo vada non significa che necessariamente otterremo quella cosa lì ovvio che se la otteniamo è bellissimo però non necessariamente la prova centrale corrisponde alla vittoria rispetto all'obiettivo Yvonne ma tu nel momento in cui decidi di affrontarlo e di raggiungere l'obiettivo lì dove non dovessi raggiungerlo comunque hai vinto la tua paura quindi comunque saprai in che modo d'ora in poi puoi vincere la tua paura saprai in che modo puoi fare o non fare le cose perché di fatto è ovvio che è molto più bello vincere ma anche quando lì dove magari perdiamo temporaneamente abbiamo acquisito una grande consapevolezza e il viaggio dell'eroe serve proprio a questo noi alla fine di ogni viaggio abbiamo acquisito siamo persone nuove perché abbiamo delle consapevolezze in più magari con delle ferite magari con delle ferite da leccarci però di sicuro delle cose ce li abbiamo delle cose li abbiamo imparate dopodiché quindi superando la prova centrale la nostra più grande paura arriviamo alla ricompensa e lo vedete qui la ricompensa vedete qua c'è l'omino con la coppa come se avesse vinto qualcosa che cosa succede che noi abbiamo sconfitto le nostre paure perché le abbiamo superate quindi abbiamo fatto un'azione e abbiamo sconfitto quella paura abbiamo affrontato la sfida quindi la ricompensa è proprio l'esperienza che abbiamo vissuto la conoscenza di noi stessi la comprensione di noi stessi e delle nostre paure e anche di come siamo in grado di affrontarle perché è vero che noi pensiamo obiettivo per obiettivo ma noi immaginiamo che la nostra vita è lunga è ampia è fatta di tante cose e quindi quella stessa forza noi la possiamo mettere in tutto il resto magari quel singolo obiettivo è un singolo obiettivo di questo momento ma poi la perdita di quell'obiettivo ma la ricompensa acquisita ci permette magari di superare di arrivare ad un obiettivo ancora più grande migliore e spesso è così spesso ci blocchiamo di fronte a un obiettivo perché c'è qualcosa che ce lo impedisce ma questo ci permette di raggiungere qualcosa di meglio lì dove abbiamo imparato la lezione che è la ricompensa è proprio quella cosa lì e qua finisce il secondo atto di questo nostro viaggio epico ora scrivete i titoli delle tappe fin dove siamo arrivati per esempio se avete affrontato la prova centrale o la state affrontando il titolo della prova centrale può essere può avere a che fare con il vostro drago la vostra paura in positivo vi suggerisco di scriverlo in positivo perché la prova centrale è quello che vi porta fuori dalla paura se siete alla ricompensa cioè se non siete per esempio ancora arrivati alla ricompensa provate a immaginarla questa ricompensa qual è e non la immaginate provate a non immaginarla solo sotto forma pratica no di obiettivo raggiunto ma proprio è se io raggiungo l'obiettivo o anche se non lo raggiungo che cosa ho per me cosa ottengo per me qual è la ricompensa mia più grande scrivete ora siamo nell'ultimo nell'ultima parte che è la via del ritorno ok quindi l'eroe ha la ricompensa ha ottenuto una nuova consapevolezza e decide di tornare a casa e che cos'è la via del ritorno è il momento in cui decide di tornare a casa ma non è ancora non ha ancora vinto del tutto non è ancora fuori pericolo ci sono ancora dei pericoli ok ci sono ancora delle cose da affrontare l'eroe diamo un po' dopo la ricompensa diamo un po' per tentativi ed errori no e quindi spesso che cosa accade che nel momento in cui decidiamo di tornare a casa ci sono degli altri prove sono un po' quelle prove che ci arrivano per dire ok voglio davvero questa cosa la voglio davvero affrontare ho imparato davvero la lezione è una messa alla prova scrivete il titolo anche se non ci siete ancora arrivati o se ci siete arrivati scrivetelo lo stesso grazie a tutti ok e passiamo alla tappa successiva che è la ressurrezione quindi l'eroe in questa tappa voi in questa tappa che cosa accade nella vostra vita accade che avviene una seconda nuova prova importante simbolicamente è una prova di morte non vedetela nel senso brutto del termine nel senso che voi lasciate andare definitivamente qualcosa di voi che non vi serve più quindi lasciate andare una parte vecchia che non vi serve più che non è più appartenente a voi che faceva parte del vecchio mondo ordinario della vostra vecchia vita e avete imparato una nuova grande lezione c'è una parte nuova che va a colmare quella vecchia che non vi serve più dopo di che scrivete il titolo l'ultima è ritorno con l'elisir quindi l'eroe ritorna al suo mondo a un nuovo mondo una nuova vita con una consapevolezza diversa è una persona diversa è in pace è una persona libera autorealizzata rispetto al viaggio che ha fatto è nuova come mai torna lì torna lì perché poi arriverà da lì passerà al suo nuovo mondo ordinario perché finalmente torna a casa l'eroe voi tornate a casa e tornate nel vostro nuovo mondo ordinario diverso dal primo e non si finisce mai quindi il mondo ordinario con quella nuova consapevolezza dopo che avete superato le sfide dopo che avete superato le ombre le paure dopo che avete superato tutto quello che avete superato vi serve per tornare in pace in una nuova vita tranquilla ordinaria diversa da quella di prima per poi ad un certo punto ripartire nuovamente e affrontare un nuovo viaggio dell'eroe e scrivete i nomi di queste ultime due tappe quindi anche del nuovo mondo ordinario qual è il nuovo mondo ordinario che desiderate perdonami sì aspetta che non ti non ti vedo devo scorrere forse prova ad alzare la mano perché non so se alzi la mano virtuale arrivi in cima così ti la mano quale sarebbe scusa sono un po' ignorante tecnologicamente hai ragione hai ragione hai ragione aspetta un attimo e tu con la penna no non ha la telecamera ecco ti Alberto ho interrotto la condivisione così riesco a vedere tutta la schermata ciao Alberto dimmi dico nel senso le ultime due anche se appunto magari uno è arrivato fino alla nove le ultime due non le ha vissute diciamo se le puoi immaginare quindi sì noi in realtà ci possiamo proprio per il potere narrativo che abbiamo noi ci possiamo immaginare poi magari non le viviamo così però è importante perlomeno iniziare a dargli un titolo soprattutto alla tappa successiva quella in cui siamo oggi perché la tappa che affronteremo presto che stiamo per affrontare Alberto quello che ti suggerisco di fare è dagli il titolo che desideri sì ok cioè prova a entrare dentro di te e di chiederti quale sarà il titolo di queste ultime due tappe sì ce l'ho ok beh tanta roba che ti mancano due tappe eh hai fatto un bel viaggio fino ad oggi beh diciamo fino all'otto l'ho sentito diciamo ecco poi appunto mi sono fermato e ecco quello della nove della della ricompensa quello non proprio in senso materiale ma appunto a livello proprio esperenziale sì però appunto poi mi sono fermato e mi sembra di aver fatto un passo indietro ecco a volte succede sai perché questo lo dico perché non è così è uno schema che ci dà una direzione ma non è così tanto non è inflessibile vi sembrerà a volte questo succede spessissimo di di pensare o anche è anche il contrario di questo è di pensare sono ferma o fermo qui poi man mano che racconto no ma io un passettino verso quest'altra tappa l'ho già fatta no e dice Alessandra che annuisce perché è così e poi magari di dire no ma forse dovrei tornare un attimo indietro forse non l'ho vissuta ancora del tutto perché in realtà non è inflessibile a volte a volte cosa accade che all'interno dello stesso viaggio dell'eroe affrontiamo degli altri micro viaggi dell'eroe e quindi a volte si intersecano e quindi se in un unico se in un unico grande viaggio siamo fermi alla otto magari in quel piccolo viaggio dentro quel grande viaggio magari siamo montati più avanti quindi delle consapevolezze ce li abbiamo ma non abbiamo ancora tutte le consapevolezze per andare in un nuovo mondo ordinario perché il mondo ordinario è quieto è tranquillo è statico a volte è noioso come diceva anche Yvonne credo giusto Yvonne ok ci sono domande avete segnato tutto avete dato titoli chi ovviamente ha deciso di partecipare attivamente e sapete dove siete fermi oggi più o meno vi va di condividere se vi va di magari vi aiuto io sono alla otto come si sta nella otto anche se si realizzerà a gennaio questo progetto però ormai ecco è stabilito quindi lì ci sono ok ok senti e com'è affrontare la prova centrale l'hai già finita l'hai già affrontata o sei in piena prova centrale no no l'ho già affrontata quindi sei verso la ricompensa su di me sì e ti posso chiedere Maria Rosa qual è la paura più grande che hai dovuto affrontare nella prova centrale il drago beh la paura sì è stata quella di espormi quindi da persona molto timida che non riusciva a esprimersi a fiorire diciamo sono diventata quella che sono oggi quindi ho vinto tante mie paure quindi la mia paura e la parte dolorosa è stata abbandonare una a me che poi non mi piaceva neanche che mi facesse star bene sì era una zona comfort quindi diciamo ok quindi se mi sembra di aver capito sembra di aver capito bene Maria Rosa tu sei già nella ricompensa che la ricompensa non è tanto il progetto è il fatto di essere riuscita già ad abbandonare quella parte lì di aver scoperto una parte nuova che ti piace di più giusto? sì 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 ok 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 quindi Maria Rosa se ho capito bene tu dovresti essere ora nella ricompensa di sicuro ad oggi sviluppando questo progetto ti dovrai mettere alla prova no? e quindi dovrai affrontare necessariamente delle altre piccole parti di te piccole grandi che sono le ultime tappe no? la risurrezione per arrivare a un nuovo mondo ordinario che è tu che sei lì nel progetto tranquilla ok diversa diversa da quando sei partita rispetto a quando sei partita grazie grazie per questa condivisione qualcun altro vuole condividere? allora condivido io dato che ho iniziato prima e allora sai che mi hai detto di pensare e ho trovato in realtà qualcosa che accomuna il mondo iniziale con quello della prova sì e niente e mi è venuta la parola perfezione nel senso che cioè anche nella routine in quello che fai tutti i giorni quotidianamente lavoro famiglia casa e cioè si fa sempre per per farlo al meglio cercare ogni giorno in ogni momento di farlo al meglio e nella prova che è il punto secondo me dove sono ferma e che ho detto che inizialmente appunto è diverso perché c'è una paura però è la paura che non sia che non ci sia questa perfezione e quindi la paura di non riuscire a andare oltre a superare questo obiettivo perché c'è qualcosa che non è perfetto e quindi mi blocca grande che bella scoperta che hai fatto sì infatti ho messo come nome della ricompensa la bellezza dell'imperfezione però io sono ferma un po' prima un po' prima un passo prima ok poi ci proviamo tra un po' eh ci proviamo a fare un passo avanti ok ok grazie grazie a te qualcun altro qualcun altro vuole condividere io volevo farti una domanda scusami sì Alberto dimmi perché prima perché purtroppo la linea mi va e bie purtroppo quindi le parole prima hai detto c'è un un'analogia con da una parte all'altra però non mi ricordo in quale appunto sì la maggior parte delle volte io in realtà ti direi sempre ok però ovviamente se uno poi non lo trova ci sta la il drago quando noi nella prova centrale affrontiamo il drago il drago non è anche se è un evento esterno apparentemente un evento esterno quello evento esterno ci fa scatenare una parte di noi che è una paura una parte ombra di noi quindi a prescindere dall'evento esterno quando noi affrontiamo la prova centrale quella è una paura che affrontiamo una volta superata quella paura noi abbiamo scoperto siamo persone con una nuova consapevolezza questa paura che noi affrontiamo nella prova centrale questo drago è già presente nel mondo ordinario proprio quando noi siamo fermi e quieti che è quella cosa che ci fa stare fermi e quieti che ci fa stare lì ok ok quindi trovare diciamo un collegamento può essere utile perché come è successo per esempio per Yvonne quello è un po' il suo tema e quindi se prima era ferma e nella zona comfort lei diceva utilizzare la perfezione nell'ambito diciamo familiare e nella sua zona comfort nella sua zona diciamo di stallo questa cosa ritorna nella guerra contro la perfezione se deve affrontare un nuovo obiettivo importante per lei è lì che lo ritrovi perché noi fondamentalmente in tutte le tappe siamo sempre la stessa persona che affronta delle cose ma ci portiamo dietro quest'ombra alla fine del 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 viaggio quello che andiamo a risolvere è proprio questa parte qui la paura quella paura lì sì per me sì 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 per me le mie paure diciamo che devo sempre affrontare sono un po' appunto il senso di precarietà nel gettarmi appunto verso una nuova avventura e magari anche far conto sulla mia autostima che diciamo appunto quella che mi frena sì non so non so se ti ho perso o se sì nel senso il mio drago praticamente appunto questo diciamo sia al affrontare la bassa autostima sia al ritrovarmi in un senso di precarietà di non farcela ecco ok che sono se ci pensi prova a pensarci Alberto sono molto vicine molto correlate no sì cioè lì dove abbiamo magari una bassa autostima ci manca un livello di autostima non abbiamo un livello di autostima molto alto abbiamo anche difficoltà ad affrontare le cose quindi la precarietà di cui parli tu sono sono collegate sì dove sei fermo in questo momento Alberto hai detto all'otto anche tu come scusa in questo momento dove sei fermo nel viaggio mi hai detto all'otto giusto sì sì praticamente 8 a 9 cioè nel senso che per un momento mi sono ero fuori dal lavoro e però poi sono ritornato a fare il solito lavoro che che facevo ecco quindi adesso da una parte c'è una chiamata un qualcosa di più gratificante che mi entusiasma dall'altra invece c'è la vita normale che che mi dà più senso di ovviamente di sicurezza ma però non mi dà grandi grandi gratificazioni ok quindi un po' come no andare e tornare dal mondo ordinario alla all'affrontare il drago per quello sono collegati infatti no lì dove non affronti il drago è come se tu tornassi nel mondo ordinario per ricominciare da capo è un loop poi vediamo dopo cosa ti serve per proviamoci va bene a te Alessandra eccomi qua allora affronto il mio drago parlando anche perché non so chi c'è dall'altra parte non so chi vedo solo te è un marito ma gli altri non li vedo quindi per me questa è già una bella prova brava brava io mi trovo come ti accennavo come intuivi prima da no da annuire è come se appunto continuo a fare queste tappe no vado su come le lanciate in un orologio che continuano a salire e scendere diciamo che io sono vabbè sono non ferma però diciamo alla prova centrale diciamo però non sono proprio ferma nel senso che la cosa curiosa del mio schema del mio disegno che vedo è il fatto che io non ho dato è come se mi mancasse la tappa 11 cioè non l'ho proprio presa non so perché mi manca ho tutti i titoli di tutto tranne che dell'11 l'11 proprio per me non mi è arrivato cioè è vuoto è vuoto la risoluzione giusto esatto mi manca quella parte lì e mentre nelle altre continuo a a navigarci bene nel senso che anche nella mia ombra la riconosco so che comunque è la per me la la paura proprio di parlare no io lavoro con le immagini sono un artista lavoro più con con le immagini con l'arte sto facendo un lavoro di questa cosa da quest'anno ho fatto diversi giri nel viaggio dell'eroe però mi manca quella parte lì mi manca quella parte lì e secondo te come mai? non lo so non la riconosco è come se non ci fosse non lo so non riesco neanche a comprenderla sì e il ritorno con l'elisir ce l'hai come tappa? mi manca proprio quindi ti manca la 11 e la 12 ti manca il pezzettino finale la 12 ce l'ho c'è della nuova la 12 sì la 12 che cos'è? che titolo gli hai dato la 12? vita ad arte ok ok è la 10 che cos'è? la 10 aspetta che cos'era la risurrezione ho scritto abbandono di approvazione scusami? abbandono di approvazione e ci sto lavorando insomma su queste cose no? la risurrezione tra le due è nel momento in cui tu abbandoni l'approvazione e abbandono di approvazione giusto? sì nel momento in cui tu abbandoni l'approvazione la prima cosa che ti arriverà come istinto rispetto a tutto quello che hai vissuto fino ad oggi rispetto all'approvazione cosa sarà a livello di anche negativo intendo tu decidi di abbandonare l'approvazione lo fai qual è la conseguenza magari una conseguenza possibile negativa oltre a quelle positive quella conseguenza che conti dovrei fare con te rispetto a abbandonare l'approvazione quindi ad un certo punto qualcuno non ti approva non approva cosa succede dopo dici quello sì perché che cosa succede nella risurrezione la risurrezione è l'ultima grande prova cioè tu affronti la prova centrale quello che vuoi e quello che anche ottieni è l'abbandono dell'approvazione la risurrezione che qualcuno non ti approverà quindi è una messa alla prova no vabbè in realtà l'ho vissuto tante volte questa cosa della non approvazione sì però questa cosa della non approvazione quando si è arrivata lì tu l'hai già abbandonata hai deciso di abbandonarla sì quindi immaginati tu che decidi di abbandonare l'approvazione e a un certo punto c'è la grande prova che qualcuno di importante non ti approverà non che accadrà davvero eh però nella viaggio dell'eroe potrebbe essere questo no quindi cosa mi succede come l'affronto l'affronterai bene perché fondamentalmente hai già passato la prova centrale ok però comunque una prova importante e quella prova importante ti permetterà di arrivare alla tappa 12 che si chiama arte vita ad arte vita ad arte ok arriverai vita ad arte quando in maniera autentica consapevole quando realmente nella prova 11 non te ne fregherà niente dell'approvazione degli altri ti arriverà un segnale e tu realmente avrai abbandonato l'approvazione ok ok questo più o meno come potrebbe andare non dico che sia necessariamente così però rispetto ai titoli che hai dato potrebbe esserci diciamo questa cosa in mezzo sì perché quella è la vera grande no no mi risuona nel senso è come se quella roba lì rimane lì sotto no è lì che non lo so la vocina la vocina sì ma neanche perché la voce meno male le ho affrontate le voci no le riconosco tutte questa è come se è quella roba che arriva inaspettata non lo so proprio una prova forse che non ho mai forse un po' saltato saltato no sicuramente c'è nel giro poi tutte le altre prove che ho fatto sicuramente l'ho l'ho passata però forse l'ho passata è anche quella però ti dico anche che è anche quella più difficile da immaginare ah ok perché se ci immaginiamo una prima prova diventa e magari non l'abbiamo ancora affrontata del tutto diventa ancora più difficile immaginare una seconda prova ancora più complicata che però su cui noi però siamo più strutturati ad affrontarla quindi la superiamo ok allora io allora probabilmente sono più ferma lì eh in realtà può essere perché il drago io ce l'ho anche tatuato drago io sono io il drago sono io sì per cui grazie non voglio portare di altro tempo ma figuro mi ha dato delle domande veramente interessanti grazie grazie a te grazie a te ora direi di andare in conclusione qua allora il viaggio dell'eroe è un argomento immenso nel senso che qui intervengono poi ve la faccio vedere vagamente eh molto intervengono anche gli archetipi che possono gli archetipi sono tanti gli archetipi sono tanti di tanti tipi di tante nature di tante tipologie ma in questo viaggio dell'eroe intervengono oltre 12 archetipi anche 6 archetipi principali più il drago ve la faccio vedere al volo perché è interessante anche questa parte qua vedete sì e intervengono qui nelle tappe del viaggio dell'eroe questi siamo noi eh noi siamo nell'archetipo dell'innocente nella prima parte dell'orfano dell'orfana del martire in questo viaggio del viandante del guerriero e del mago e qua si apre un altro vaso un altro vaso perché ovviamente ehm nel viaggio ehm il viaggio inizia con la completa fiducia dell'innocente quindi nel mondo ordinario che non è eh un personaggio eroico e sia pre che post eroico e e lì dove c'è fiducia lì dove si sta tranquilli prosegue con l'ansia di sicurezza dell'orfano quindi quando noi attraversiamo non sappiamo se affrontare la prima sfida l'autosacrificio del martire l'esplorazione del viandante quando noi decidiamo di intraprendere il percorso la competizione e il trionfo del guerriero fino all'autenticità e completezza del mago quindi si inseriscono questi archetipi e si inserisce il drago no la paura il drago questa parte di noi diciamo la parte ombra di noi la parte di fatta di paura di ombra eh cambia in base al viaggio che facciamo quindi nella prima parte l'orfano nega l'esistenza della paura non la conosce non sa non sa che c'è la paura poi il martire la teme il viandante fugge dalla paura il guerriero la combatte e a volte perde contro la paura e il mago invece la consapevolizza la cosa interessante qual è che non è che la sconfigge questo il drago va interiorizzato va consapevolizzato io devo riconoscere il drago sapere che quello il mio drago è sapere come posso integrarlo dentro di me perché lì dove c'è l'ombra c'è anche la luce quella parte lì vi permette anche di fare tante cose non è solo da buttare via la riservatezza è tutta una serie di cose che noi abbiamo la precisione ci permettono anche di fare tante cose belle non è solo un ostacolo quindi va integrato all'interno di noi ora è un mondo enorme ora l'ultimo pezzettino l'ultimo pezzettino è immaginatevi nel punto in cui siete oggi nel vostro viaggio dell'eroe entrato un attimo in contatto con quella parte di voi in quella precisa tappa come siete chi siete e provate ora a affacciarvi nella tappa successiva e vedrete voi nell'altra tappa ci siete voi diversi potete essere vestiti diversi potete avere un'arma o un nuovo superpotere qualcosa di nuovo e positivo quella cosa che vi servirà per fare il passo successivo nella nuova vostra tappa ora potete scrivere su un foglio che cos'è che cos'è quest'arma questo oggetto questo simbolo che avete visto questo superpotere scrivete il nome e ora vi chiedo di rispondere a questa domanda cosa ti serve per fare il passo successivo un po' Grazie a tutti. Ditemi se ci siete. Vedo Alessandra che sta scrivendo ancora. Finito Alessandra? Ok. Se volete potete condividere cosa vi serve per fare quel passo o cosa avete visto, se c'è un simbolo, se c'è un oggetto, un'arma, un superpotere. Se avete voglia. Io vedo lo yoga della risata in tutte le classi. E cosa mi serve di portare avanti i primi due laboratori che partiranno a gennaio e vedere se la cosa prende piede. Brava, grazie Rosa, che bella notizia. Posso condividere anch'io? Visto che con Maria ho trovato anche prima, che ha parlato a paura, la timidezza di parlare, mi sono trovata tanto in quello che hai detto. E anche io, il mio superpotere sarebbe sicuramente l'ironia, quindi ridere, la leggerezza. Quindi siamo allineate. Bella, l'ironia è un'arma molto potente. L'ironia, la gioia, la risata. Poi in questo momento storico, tanta roba. Va bene, se c'è qualcun altro che vuole condividere, altrimenti direi che possiamo anche concludere. Che dite? Marika, sei stata grandiosa. Grazie, grazie Silvio. Siete grandiosi voi. È molto bello stare con voi. Hai fatto un percorso molto interessante e ovviamente non si esaurisce in una serata. Molto probabilmente c'è bisogno di approfondire di più, però è molto interessante l'approccio a un percorso interno che porta poi a uno sviluppo di un'azione nel mondo di ogni persona, della sua azione nel mondo. Non l'avevo mai visto in quel modo. Avevo seguito altri percorsi, ma è stato molto interessante sfruttare gli archetipi. Orietta, prego, a te la parola. Devi aprire il microfono per dover parlare. Forse ha schiacciato la manina per sbaglio. Non so. Capita. Orietta, se ci sei... Batti un colpo. Esatto. Dicci due cose. No, mi sa che ha alzato la manina per sbaglio. No, non l'avevo il microfono. Se vuoi puoi scrivere, Orietta. Scrivi sulla chat. Puoi provare a scrivere un messaggio. Orietta, se hai voglia di scriverci due cose... Molto volentieri. Qualcun altro vuole condividere un pensiero, una sintesi, una parola? Eccola. Quando il viaggio dell'eroe è una malattia importante, si è trascinati in questo percorso. È certo. Certo, Orietta, assolutamente sì. Infatti, prima parlavo della vita che accade, no? Perché purtroppo noi non abbiamo il controllo su tutto. Comprese le malattie, comprese le perdite, comprese tutta una serie di cose. E lì, comunque, siamo trascinati in un viaggio dell'eroe. Che comunque, Orietta, siamo trascinati. Sempre nei viaggi dell'eroe. Ovvio che quello della malattia è un viaggio dell'eroe di sicuro particolare, in cui non vogliamo esserci. A volte la malattia ci permette veramente di tirar fuori delle nostre risorse importantissime e purtroppo dobbiamo metterle in atto. Lo so che è brutto, però la vita purtroppo è fatta di prove, tra cui ci sono anche ste robe brutte. Quindi ti mando un abbraccio. Mi dispiace non poterti sentire. Si dice anche che non si può decidere il tempo delle tappe, ma le decidono gli altri. E poi dice molto vero quello che dici e lo sento concreto. Grazie a te, Orietta, per questa condivisione. A questo punto direi, se nessun altro vuole intervenire, abbiamo anche stasera fatto le dieci e mezza in questo bellissimo, perché il tempo viaggia velocissimo, non ce ne se ne accorge neanche, perché è interessante quello che si sta facendo e quindi mannaggia, ci tocca chiudere. Grazie davvero, di cuore. Grazie a voi, grazie a voi, è stato bello, è stato bello per me. Grazie a tutti, grazie a tutti, buonanotte. Grazie mille, grazie mille Marika. Grazie, ciao. Grazie a voi. Grazie, ciao ragazzi, ciao ragazze.